good morning juventus questo è un paese in cui dignità a mio modo di vedere non sanno cosa sia quando per esempio in estremo oriente e in particolare in giappone un manager o un presidente di qualcosa fallisce addirittura loro arrivano all'eccesso che io non condivido nel harahiri sapete di cosa sto parlando ma in ogni caso ci si dimette quando le cose non vanno bene noi in italia più le cose vanno male più si fa schifo e più si rimane incollati alla poltrona chiamiamola poltrona così no fra virgolette noi abbiamo un allenatore massimiliano allegri che è tornato a juventus tre anni fa non ha vinto niente ha fatto vedere soltanto brutto gioco situazioni allucinanti mette in campo formazioni diverse non crea nulla che possa creare aspettative nei confronti dei tifosi che possano sperare magari un qualcosa di buono e nonostante questo rimane imperterito con tutto il mio modo di vedere con tutte le intenzioni di rimanere anche l'anno prossimo perché lui ai suoi 7 più 2 milioni non ci rinuncia non ci rinuncia ma non è solo non è solo gravina vogliamo parlare di gravina a me risulta che l'italia si assente dai mondiali di calcio da otto anni ovvero da due competizioni ma il problema è che adesso dopo l'ennesima figuraccia che è stata fatta ieri sera l'altro ieri sera giusto si sabato sera e contro la macedonia ennesima frutta indigesta come era già successo con mancini io se fossi in italia cercherai di andare sull'orto solo sulle verdure più che sulla frutta io credo che gravina era ricordato indipendentemente da come finirà la qualificazione come il peggior presidente della fgc perché oltretutto questo personaggio a fronte di una sua carriera a titolo personale quella di diventare vice presidente della uefa perché evidentemente più fanno schifo e più gli danno ruoli più danno diciamo ruoli importanti che io dico tu hai un'azienda o hai un movimento calcistico ci metti la persona più competente che c'è per esempio come mai io immagino che un del piero come mai penso che un albertini come mai penso che un mandini potrebbero fare nettamente meglio di gravina gente che ha giocato a calcio campioni del calcio perché stiamo parlando dei grandi giocatori che hanno a cuore il bene del calcio e dei giocatori di calcio no prendiamo della gente sconosciuta perché alzi la mano che conosceva gravina prima che diventasse presidente della fgc e alzi la mano alzi la mano che conosceva talecchio prima che diventasse presidente della fgc alzi la mano che conosceva mattarese alzi la mano che conosceva abete così abbiamo fatto discorso degli ultimi quattro penosi presidente della fgc ma siamo sempre qui finché noi metteremo a cara capo del calcio a comandare nel calcio gente che col calcio non ha nulla che vedere oltretutto vetusta anziani vecchi chiamateli come cazzo ne avete voglia non potrà mai andare bene in italia non potrà mai andare bene quando ci ha un presidente della fgc e si vede che il calcio italiano non va bene si si dà forza ai vivai si aiutano i vivai si incentivano le cose dovrebbero dargli una medaglia alla juventus che ha l'under 21 all'under 19 alla juventus dovrebbero dargli la medaglia non penalizzarla perché è l'unica squadra italiana adesso ci si è messa anche l'atalanta e mi fa molto piacere ma questo l'ha sempre avuto l'atalanta appunto di valorizzare i giovani e farli crescere tant'è che nella juventus ci sono 45 giocatori che sono nella rosa poi magari la legge non li fa giocare ma sono nella rosa nella prima squadra ergo se noi non vogliamo che il calcio italiano muoia a livello di prestazioni risultati sto parlando e non a livello economico perché comunque già morto basta vedere i bando di concorso per per i diritti della serie a che non se li vuoi non se li vuoi prendere a nessuno perché costano troppo perché nessuno riguarda chiaro benissimo allora voi vi dovete spiegare in questo good morning di oggi mi dovete spiegare chi vuole venire qua sotto a commentare perché gente come allegri e gente come gravina non fa bene il proprio lavoro perché poi di fatto è questo il discorso non è che io non ho antipatie né per uno né per l'altro qui un discorso di fare bene il proprio lavoro se io facessi dei video che non piacciono anzi che avere una media di 10 12 mila visual nelle good morning di 25 30 mila nelle pagelle avrai 10 visual 20 visual 50 visual e sarebbe giusto così e sarebbe giusto così se io non fossi capace di fare i video non avrei 50 mila passa scritti ne avrei magari 8 mila 7 mila 10 mila 11 mila 5 mila non lo so 400 che cazzo ne so problema è che la meritocrazia non c'è negli alti ranghi non c'è negli alti ranghi quindi bisogna che si intervenga in qualche modo non è possibile che nel 2023 ad allenare la juventus ci sia un allenatore che ha delle idee da anni 70 stile tra pattoni perché è l'allenatore che che ne dicano molti allegri è l'allenatore che assomiglia di più a tra pattoni che ci sia tra pattoni signori io ve lo dico con la squadra che aveva è più quello che ha perso che quello che ha vinto non mi stancherò mai di dirlo ok è vero lippi ha perso quattro finali ne ha vinta solo una però lippi aveva dato un gioco alla juve aveva creato una squadra che insomma faceva paura la juve è andata a perdere con l'hamburgo quindi detto tutto potevano parlare anche delle eliminazioni penose in coppa delle coppe in coppa dei campioni negli altri anni in cui lui è stata la juventus per cui signori io veramente rimango basito rimango basito di come in italia non esista la meritocrazia tu lavori bene tipo ti promuovo ti do ti aumento lo stipendio e ti rinnovo il contratto lavori male te ne vai solo che il problema sapete qual è è che se chi deve mandar via questi personaggi non li manda via è in commissione con loro giusti quello che giusto coloro che mi dicono max ma allegri che che lo ottiene avete ragione avete ragione e quindi per riflesso me la prendo anche con lui la figici chi è che ha eletto ha eletto gravina le squadre di serie a vista bene questo personaggio tenetevelo poi però se il movimento calcio italia il movimento calcio serie a va a ramengo perché guardate che gli eliti serie a a ramengo la serie a l'italia che rischia di non essere qualificata gli europei è a va a ramengo la il movimento nazionale quindi devo dire fallimento totale del tecnico della juventus come risultati e del presidente della figici come risultati allora di cosa stiamo parlando di che cosa stiamo parlando good morning juventus allora di cosa stiamo parlando qui Lorde ci sto parlando quindi dicevi che da te tutta la tua religione ai ragione secondo me di cosa stiamo parlando qui sono dicono che